La consegna dei tagliandi simbolici ai volontari di quartiere, avvenuta questa mattina nella Sala Rossa del Comune di Pesaro, ha dato il via al nuovo giro di consegne dei buoni spesa messi in campo dall'amministrazione comunale per supportare le famiglie pesaresi in difficoltà economica a causa del Covid. Oltre 2.200 le unità familiari interessate dall'intervento, il cui valore complessivo per la quarta distribuzione è stato di 490.000 euro. Avevamo appunto previsto, stimato 400.000 euro sul fronte del numero delle domande della volta precedente e siamo arrivati ad aggiungere ulteriori 80-90.000 euro per dare risposte. Oltre che per i buoni spesa utilizzabili dalle famiglie nelle attività locali, l'amministrazione ha ampliato anche le risorse destinate al fondo anticrisi. Sul fondo anticrisi eravamo partiti da 400.000 euro, quindi uno stanziamento importante del fondo anticrisi all'inizio dell'anno, sono stati aggiunti ulteriori 380.000 euro, proprio per dare risposta a tutte le domande che arriveranno. Col fondo anticrisi siamo andati a intervenire per appunto sostenere le famiglie nella spesa dell'affitto o nel mutuo di prima casa, proprio perché sono tra le spese maggiori che una famiglia deve affrontare a fine del mese. Quindi il fatto che ci siano state così tante domande, circa 600 domande effettive più o meno, è la dimostrazione di come l'affitto e il mutuo di prima casa siano comunque le spese più importanti, tra le spese più importanti che una famiglia deve sostenere. Prezioso l'aiuto e l'intervento dei volontari di quartiere, 200 quelli impegnati per la quarta distribuzione dei buoni spesa, mentre da inizio pandemia sono stati più di 700 quelli coinvolti per la consegna dei voucher, ma anche delle mascherine, dei saturimetri e di tutte le altre risorse e iniziative messe in campo dal comune. In effetti siamo in tanti, anch'io mi sono stupita, non pensavo fossimo così tanti, ma c'è bisogno, nel senso che è una cosa grande da fare e quindi è importante che più gente possibile ci dia una mano. Ci rendiamo conto che il periodo è veramente difficile e moltissime famiglie, come dicevano in conferenza, soffrono in questo momento e quindi poter aiutare in qualche modo anche solo con il nostro tempo a consegnare questi buoni ci fa sentire effettivamente orgogliosi.